Bella bella ragazzuoli, in carico cerca bottiglie di color viola acceso presso Corso Commercio ragazzi quindi ci richiamo a Corso Commercio posizione esattamente qui dove vi ho pingato ragazzi quindi scendendo qui è semplicissimo, ci giriamo ragazzi come vedete troviamo qui la prima bottiglia di color viola, la seconda alla sinistra e la terza alla destra e anche questi colori sono presi, la missione è completata ragazzuoli come sempre spero che il video vi sia stato utile e bella bella